Marina Gridelli, responsabile delegazione toscana di Marevivo Onlus, benvenuta a Bastia Viareggio, questa nuova regata ecosostenibile e plastic free. Se Marevivo è qua, ha a che fare con l'ecosostenibilità e con questo concetto di plastic free? Intanto siamo orgogliosi di essere partner di questa importantissima e storica manifestazione che si è saputa riproporre in chiave ecosostenibile. Sì, plastic free è compatibilmente con quello che è possibile, cerchiamo di invitare gli equipaggi a utilizzare il meno possibile, anzi possibilmente non utilizzare, plastica e quindi bottigliette di plastica e poi siamo felici che la nostra divisione vela abbia partecipato a questa manifestazione. Avremo anche un contest fotografico, premiamo l'equipaggio che è riuscito a fotografare la specie marina in maniera più rappresentativa possibile e siamo felicissimi del fatto che domani sarà premiato un grandissimo fotografo Carlo Borlenghi e saranno dalle sue mani, la premiazione arriverà proprio da lui che da grandissimo fotografo darà il premio a un fotografo diciamo occasionale e però appassionato del mare. E questa è una cosa molto bella, è stata chiesto ai velisti di fotografare quello che vedevano durante la regata poi ci sarà una giuria e il grande Carlo Borlenghi consegnerà il premio al miglior velista fotografo. Insomma piano piano il mare sta in salute o non sta in salute però piano piano ce la facciamo diciamo così a guarirlo, a proteggere la salute del mare? Allora Marevivo nasce più di 35 anni fa quando non era di moda essere ambientalisti ora diciamo che il greenwashing va molto di moda, tutti si rispolverano diciamo questo essere ambientalisti però dobbiamo stare veramente attenti, le nuove generazioni sono bravissime, i ragazzi recepiscono Marevivo oltre a organizzare raccolte di pulizie anche sottomarine grazie ai sub, alla divisione sub e quindi raccogliere pneumatici, reti fantasma, va anche a educare nelle scuole e sulle spiagge con i propri biologi marini e la risposta è buona, la risposta è molto buona. Poi un'altra cosa che fa Marevivo è quella di lottare per leggi sempre più giuste grazie infatti a Marevivo che la legge salva mare è diventata finalmente una realtà e quindi per esempio i pescatori che prima compivano un reato se raccoglievano i rifiuti in mare e li conferivano a terra ora lo possono fare e non è un caso se quest'anno dalle mani della Presidente Casellati del Senato, Rosalba Giuni, la nostra Presidente fondatrice, ha ottenuto il premio di Associazione Ambientalista dell'anno.